un ringraziamento particolare ai miei 10.000 iscritti grazie ragazzi un abbraccio a tutti voi grazie per il vostro supporto e oggi voglio condividere con voi un altro ennesimo progetto la realizzazione di un amperometro con una resistenza shunt per un alimentatore variabile vedremo come realizzare questo shunt con materiali poveri da abbinare a questo amperometro per questo alimentatore variabile che arriva fino a 2 ampere per realizzare questo semplice alimentatore variabile beh occorrerà innanzitutto un alimentatore variabile io ho scelto questo ovviamente è un super cinese che va dai 3 ai 36 volt 2 ampere con display del voltaggio e volendo realizzare appunto l'amperometro andiamo a vedere come realizzarne uno analogico quindi con un piccolo strumentino da pannello e come calcolare abbinarci uno shunt idoneo per misurare la corrente massima di 2 ampere fornita da questo alimentatore ovviamente sarà anche necessario un piccolo amperometro anche micro amperometro da pannello che poi andremo a ridefinire sulla base del fondo scala che vogliamo utilizzare nel nostro caso appunto di 2,5 ampere come corrente massima inoltre sarà necessario un semplice filo di ferro del diametro di circa un millimetro e di quello utilizzato per il giardinaggio per intenderci che utilizzeremo per realizzare lo shunt da abbinare al nostro strumentino vi ricordo che la resistenza di shunt non è altro che resistore posto in serie ad un carico tra l'alimentatore e il carico per deviare misurare deviandola leggermente la corrente assorbita dal carico attraverso una caduta di tensione rivelata dallo strumentino dall'amperometro nel nostro caso e nel quale scorrerà una corrente minima che è proporzionale alla corrente massima che passa attraverso la resistenza di shunt in questo modo possiamo misurare la corrente assorbita dal carico e anche misurare le sue minime variazioni uno strumento analogico infatti consente anche di misurare quelle debole variazioni che altrimenti non sarebbero visibili con un voltamperometro digitale ovviamente non è uno strumento professionale non ha ad esempio il controllo in corrente ma può essere uno strumento utile per lobbista del fine settimana e allora vediamo nel dettaglio partendo proprio dal pannello ho a disposizione un pannello da 500 microampere fondo scala questo amperometro di recupero ha un polo positivo e un polo negativo che bisogna rispettare nel collegamento altrimenti la lancetta devierà dalla parte opposta del fondo scala misurando la resistenza ohmmica di questo strumento con un tester digitale impostato sulla portata più bassa di ohm esso risulta avere una resistenza di 423 ohm questo valore moltiplicato per la corrente massima di fondo scala pari a 500 microampere ci dà un valore di caduta di tensione ai capi dello strumento di 211 millivolt circa a questo punto sappiamo che nel calcolare la nostra resistenza di shunt dobbiamo fare in modo che alla corrente massima di 2,5 ampere del nostro alimentatore la caduta di tensione ai capi di questa resistenza sia appunto di 211 millivolt appare evidente a questo punto che la resistenza di shunt dovrà avere un valore dato dai 211 millivolt diviso i 2,5 ampere e cioè pari a circa 0,08 ohm ed essendo da me realizzata artigianalmente dovrà necessariamente essere accompagnata in parallelo da un trimmer da un kilo ohm per regolare questa tensione in più o in meno per calibrare esattamente lo strumento vediamo quindi quale sarà lo schema elettrico di questo amperometro con shunt abbiamo l'alimentatore variabile che fornisce massimo 2,5 ampere la nostra resistenza di shunt da 0,08 ohm e il nostro carico sotto in parallelo alla resistenza di shunt abbiamo il trimmer che serve a dosare la tensione la caduta di tensione esattamente sui 211,5 millivolt necessari a far arrivare il nostro amperometro da 500 micro ampere 423 ohm esattamente al fondo scala a questo punto variando il trimmer possiamo calibrare esattamente lo strumento agendo da partitore di tensione questo trimmer varierà la tensione ai capi dello strumento e quindi anche la posizione della lancetta sulla scala a diversi pannelli con fondo scala diversi corrispondono resistenze ohmmiche diverse che dovrete andare a misurare con il vostro tester digitale sulla portata più bassa non avendo io uno strumento nel mio caso per i 2,5 ampere massimi di fondo scala ho dovuto riadattare il strumentino al mio possesso e ridefinire ridisegnare la scala per i 2,5 ampere massimi una volta ha ridisegnato il mio pannello amperometrico vado a realizzare praticamente il circuito elettronico attraverso semplicemente l'utilizzo di una basetta mille fuori prendo il mio trimmer da un kilo lo inserisco al centro della basetta e poi vado ad effettuare le saldature di questi tre terminali a cui poi collegherò esternamente il micro amperometro da un lato e la resistenza di shunt dall'altro per effettuare questi collegamenti utilizzo la mia solita tecnica del filo di rame nudo attraverso cui realizzo tutti i collegamenti del circuito se vi sta piacendo questo video questo è il momento buono per mettere like ed iscriversi al canale e supportarmi grazie mille per realizzare il collegamento con il mio pannello micro amperometro vado a piegare del filo di rame rigido con tanto di isolante per poterlo abitare sul mio pannellino e quindi poi collegarlo al mio circuito mille fuori ho utilizzato del rame rigido per conferire maggiore robustezza a questo strumento che andrà fissato esternamente all'alimentatore vado a saldare i due poli dello strumento al mio circuito e a questo punto è il momento di realizzare la resistenza di shunt vera e propria da 0,08 ohm queste resistenze normalmente vengono realizzate con fili del diametro di un millimetro lunghe qualche centimetro con un materiale cosiddetta costantana che è una lega di rame e nickel ed ha un bassissimo valore di millio per metro lineare per un diametro di un millimetro circa nel mio caso guardando questa tabella ho avuto l'idea di utilizzare del comunissimo ferro che avendo una resistività leggermente più bassa della costantana dovrà essere utilizzato con una lunghezza maggiore vado a utilizzare del semplice filo di ferro del di quello utilizzato per il giardinaggio in una lunghezza che sia consona rispetto alla sua resistività pari a 0,13 ohm al metro lineare per un millimetro quadrato di diametro del filo di conseguenza per ottenere i miei 0,08 ohm basterà risolvere questa equazione che dà come risultato circa 60 centimetri parto dal tagliare uno spezzone di questo filo lungo all'incirca 60 centimetri spezzone di filo di ferro che per questioni di spazio andrò ad avvolgere proprio attorno allo strumento stesso a modo di bobina in modo da diciamo creare una struttura il più compatta possibile questo spezzone di filo poi andrà ovviamente saldato all'altro capo del dei terminali del trimmer utilizzato per regolare calibrare la tensione di caduta presente su questa resistenza di shunt qualche aggiustata al tutto al circuito e sono pronto per effettuare le saldature di questa di questo filo di ferro resistenza di shunt ai capi del mio trimmer di calibrazione e a questo punto il mio amperometro con shunt è pronto per essere installato sul alimentatore interrompo il filo positivo di alimentazione di uscita di questo alimentatore e vado a saldarlo in parallelo alla mia resistenza di shunt in questo modo la corrente che passerà attraverso il filo di ferro provocherà una caduta di tensione rivelata dallo strumento per effettuare una prima calibrazione mi procuro una resistenza di potenza da 8,2 ohm che andrò a collegare sull'uscita come carico di questo alimentatore e di conseguenza anche una pinza amperometrica da collegare all'uscita per verificare l'effettivo assorbimento di questo carico e fare la calibrazione del mio nuovo amperometro variando la tensione di uscita del mio alimentatore possiamo calibrare su diverse portate di corrente il mio strumentino semplicemente andrando a modificare il valore del trimmer e regolando correttamente per ciascuna portata il l'indicazione riportata dallo strumento e dalla pinza amperometrica ovviamente in assenza della pinza amperometrica potete semplicemente utilizzare un alimentatore variabili con amperometro incorporato per correttamente calibrare questo amperometro sulla base dell'alimentatore utilizzato effettuando la calibrazione su differenti portate di corrente otterremo una migliore accuratezza effettuata la calibrazione non mi rimane che fissare questo pannellino all'involucro esterno del mio alimentatore magari con della colla a caldo ma prima per pure curiosità andiamo a misurare la caduta di tensione a 2 ampere circa di questa resistenza di shant come vedete stiamo sui 180 millivolt segno che i nostri calcoli iniziali di progettazione erano corretti aumentando la tensione e quindi aumentando anche la corrente confrontandola con la pinza amperometrica rifacendo il processo di calibrazione possiamo raggiungere una discreta accuratezza per questo strumentino da pannello da abbinare al nostro alimentatore variabile a questo punto non mi rimane che fissare con della colla a caldo il pannellino all'involucro del mio alimentatore variabile in modo da renderlo fisso e stabile una volta asciugata la colla a caldo il mio alimentatore variabile con amperometro è pronto per essere utilizzato e ho deciso di porre all'esterno questo pannellino perché in questo modo in qualsiasi momento potrò ricalibrare il mio strumento utilizzando sempre la pinza amperometrica senza dover smontare nulla questo alimentatore potrà essere utilizzato per il test di circuiti di riparazione oppure per ricaricare delle batterie manualmente con questa tecnica è possibile anche applicare ad un alimentatore qualunque un amperometro volta amperometro digitale ridefinendo ogni volta la resistenza di shant in base alle caratteristiche del modulo led a nostra disposizione ed avere così un comodo strumento di misura della tensione di uscita e della corrente assorbita anche su piccoli alimentatori variabili come quello che state vedendo in questo momento anche qui collegando una resistenza di carico possiamo vedere la corrente che varia una volta che avremo calibrato questo volta amperometro questi voltamperometri a led hanno degli schemi di connessione ben precisi che vanno rispettati e necessitano di resistenze di shant con valori ben precisi che però adesso possiamo facilmente realizzare attraverso questa tecnica del filo di ferro che avete appena appreso grazie a questo video se il filo dovesse essere troppo lungo avrete una resistenza maggiore quindi dovrete chiaramente accorciarlo all'interno poi di ciascun pannellino a led è presente già il trimmer per la calibrazione della corrente e quindi non dovrete inserirlo voi anche qui sarà necessaria per la calibrazione o una pinza amperometrica senza contatto come questa o anche un semplice tester sulla portata ampere che vi consentirà di confrontare il dato reale di corrente assorbita da un carico fittizio come questa resistenza di potenza rispetto al valore riportato dal display a led e quindi modificare di conseguenza il trimmer che si trova dietro questo pannello per aggiustare la corrente assorbita a quella che è indicata dalla nostra pinza amperometrica in caso di valori molto diversi basterà semplicemente modificare la lunghezza del nostro filo in ferro della nostra resistenza di shant per adeguarla al valore del display bene ragazzi a questo punto io mi fermo qui vi ringrazio dell'attenzione vi invito a mettere la che iscrivervi al canale se vi è piaciuto questo video vi do appuntamento alla prossima volta